Le proprietà del cacao. La maggior parte della gente conosce le proprietà beffiche del cacao già dalla prima infanzia. Dopo un pezzettino di cioccolato fondente o dopo una tazza di cacao ti noi sentivamo una sferzata di energia e ci migliorava l'umore. Anche gli adulti sempre in dieta spesso non possono rinunciare al dolce preferito. Il fave che le fave di cacao contengono sia la caffeina, anche se in quantità minore che nei chi di caffè, che le sostanze che stimolano la produzione dell'ormone del piacere che si chiama la serotonina. La caffeina migliora la circolazione del sangue nei capillari aiutando i follicoli dei capelli a nutrirsi meglio e ricevere più ossigeno. Naturalmente dopo una stimolazione simile i capelli si fortificano e crescono più velocemente. I vantaggi dell'applicazione. Questo non è l'unico vantaggio prezioso del cacao. Esso contiene anche o per un complesso delle vitamine, poi V, AS ecc. che favoriscono il benessere e la bellezza della chioma, o i minerali e microelementi vitali, tra i quali ferro, magnesio, zinco, potassio, fluoro, sodio. La maggior parte di essi rappresentano un materiale di costruzione del fusto del cappello, le sostanze tanniche che regolano il funzionamento delle ghiandole sebacee, migliorano lo stato della pelle e fortificano la struttura dei capelli t. Poli saccaridi che rendono la chioma più liscia ed elastica, facilitano la pettinabilità e lo stanto che gli acidi organici che curano i capelli spenti e fragili, la desquamazione e l'irritazione della pelle, hanno l'effetto del peeling delicato, favoriscono l'idratazione della capigliatura, i grassi salutari che sono presenti in più nell'olio di cacao e sono un ottimo filtro UV naturale, inoltre avvolgendo ogni singolo cappello e si creano un volume extra della chioma senza pesantirla tanto e la proteggono dall'impatto con l'ambiente aggressivo. Applicando la maschera per capelli al cacao è anche possibile ottenere una sfumatura marrone bellissima, perciò le donne con i capelli castani la possono usare come un colorante sicuro e naturale. Per chi è adatto, la maschera per capelli al cacao è benefica per tutti? Non la devono applicare solo coloro che hanno una intolleranza personale per questo ingrediente. Il rimedio sarà molto efficace soprattutto per tuoi capelli danneggiati dalla permanente oppure dalle colorazioni frequenti, la chioma sottile e molto indebolita, coloro che soffrono di alopecia non causata dalle infezioni, di capelli spenti, che hanno perso la luminosità e l'elasticità, le due punte e la capigliatura fragile, tuoi capelli resi troppo secchi dopo il mare ed il sole. Sui capelli sani è consigliato effettuare due corsi all'anno della durata di un mese ciascuno del trattamento al cacao, ad autunno. Inoltrato è all'inizio di primavera. Esso aiuterà a rivitalizzare e nutrire la capigliatura dopo l'inverno e a prepararla per gli sbalzi di temperatura e maltempo di mezza stagione tra autunno e inverno. Le maschere migliori. Sarà più facile acquistare una maschera al cacao nei negozi. Tanto più oggi c'è una scelta così ampia dei prodotti cosmetici che è possibile trovare questo tipo di rimedio in qualsiasi fascia di prezzo. Per esempio, il cacao fa parte di una maschera professionale abbastanza costosa di L'Oreal che si chiama Mas Cacao. Altre case cosmetiche pure vendono i prodotti simili. Tuttavia, tante donne ancora preferiscono aggiungere il cacao nelle maschere fai date per capelli. Innanzito così facendo si può essere assolutamente sicura della composizione naturale del rimedio. Inoltre è possibile selezionare altri componenti a seconda delle esigenze e dello stato della chioma. Ci sono tante ricette popolari per le maschere al cacao. Adesso ne vediamo alcune tra le più efficaci. Al kefir con l'olio d'oliva questo rimedio è tanto consigliato alle donne con i capelli molto secchi. L'acido lattico è considerato un ottimo idratante naturale e l'olio d'oliva ammorbidisce la capigliatura e nutre le radici. Per saturare la pelle con le vitamine aggiungeteci anche un tuorlo d'uovo che dovete separare accuratamente dall'albume poi montare. Con un chiaio d'olio d'oliva. Versateci la stessa quantità di kefir e di polvere di cacao. Mescolate bene to fino ad ottenere un composto omogeneo, to applicatelo sui capelli e avvolgete bene. Il tempo di posa è di 1 a 2 ore, dopo di che lavatelo via con l'acqua tiepida corrente senza shampoo. Al cognac o il tuorlo questo tipo di maschera prima di tuo dono è fedefico alla pelle e alle radici. Essa allarga i capillari, regola il funzionamento delle ghiandole sebacee, migliora il nutrimento cellulare. I capelli si fortificano, o diventano più spessi ed elastici. È un ottimo rimedio contro la perdita dei capelli, ed è capace di diminuire anche la calvizie legata all'età. Sciogliete la polvere di cacao nell'aria riscaldato fino ad ottenere una crema densa. Rompete un uovo e separate accuratamente il tuorlo dall'albume. Montate il tuorlo con un chiaio di cognac di qualità e dalla fine unite le due parti pronte della maschera. Massaggiatela sulle radici e poi stendentela lungo i capelli coltine a denti larghi. Il tempo di posa è a un'ora, se sentirete il bruciore, lavatela via prima. Non applicate la maschera in caso di lesioni sulla testa. Alla birra col pane questa ricela è un rimedio nutriente meraviglioso che stimola ed accelera la crescita dei capelli. Si usa con successo nei casi di calvizie per riparare una chioma indebolita, spenta ed evitalizzata. Con un'aggiunta di senape oppure di cannella la maschera sarà in grado di svegliare i follicoli dormienti e rendere la capigliatura più folta, tavia, questi ingredienti potrebbero provocare un'irritazione della pelle sensibile. Tagliate la crosta da una fettina di pane nero preferibilmente un po' asciutto, rompetelo in pezzettini piccoli e versateci mezzo bicchiere di birra scura. Dopo qualche minuto mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo e aggiungeteci un cucchiaio di cacao in polvere ed un cucchiaio di miele di qualità. Mescolate bene, duplicate sulle radici e quindi spalmate lungo i capelli. L'impacco all'alio grazie a questo rimedio anche una donna con i capelli biondi tinti danneggiati dalla decolorazione potrà rendere la chioma di nuovo brillante ed elastica già dopo un paio di applicazioni. L'impacco viene preparato sulla base dell'olio di cacao ed è consigliato per i capelli se è molto danneggiati. Non si consiglia di lasciarlo per talanò, non perché potrebbe causare danni, ma per il fatto che la pellicola grassa ostruirà i pori ed è molto probabile che provocherà la seborrea. Sarà sufficiente lasciarlo in posa per 1 a 2 ore di sera e poi fare lo shampoo. Come ingredienti supplementari aggiungeteci qualsiasi olio naturale, tè di bardana, ricino, oliva, pesca, germe di grano, vinaccioli oppure essenziale, ylang ylang, rosmarino, camomilla, chiodi di garofano, cannella, crosa. Riscaldate 100 ml di olio principale a bagnomaria e scioglieteci un chiaino di olio di cacao. Aggiungete 5-10 gocce dell'olio essenziale preferito, mescolate bene e spalmate sulle ciòe in modo uniforme con un pennello per la tinta. Avvolgete bene e velocemente e potete anche riscaldare col phon per 5-10 minuti. Il balsamo colorante se volete ottenere una bellissima tonalità al cioccolato, il modo più semplice sarà mischiare cacao in polvere. A metà con la vostra maschera preferita per capelli. Bisogna farlo direttamente prima dell'applicazione e non aggiungere il cacao nel vasetto. Mescolate bene il composto e stendete regolarmente sui capelli. Lasciatelo agire per 20-30 minuti e quindi lavatelo via senza usare lo shampoo. Certamente non otterrete dalla prima volta il colore così ricco marrone come quello delle modelle sulle confezioni delle tinte permanenti. Tuttavia se cominciate a fare tali maschere 2-3 volte alla settimana, già dopo un mese il risultato sarà molto evidente. Usando il cacao si possono anche scurire i capelli biondi rendendoli castani chiari e allo stesso tempo curandoli. Le donne che l'hanno provato confermano che la chioma diventa liscia, setosa e facile da gestire. Il modo d'uso Le maschere al cacao hanno anche le loro regole d'applicazione, la cui conoscenza aumenterà notevolmente l'efficacia del trattamento casalingo. Adesso vediamo su che cosa gli esperti attirano la nostra attenzione. Per i capelli grassi e misti è consigliato usare il cacao In polvere, per i capelli se è molto danneggiati l'olio di cacao, il livello del PIA della polvere chiara è rossimo a quello naturale circa 5, la polvere scura potrebbe avere questo livello fino a O, quindi è scongliabile applicarla sui capelli danneggiati. Per preservare il massimo delle sostanze benefiche, preparate le maschere direttamente prima dell'applicazione, le maschere si spalmano meglio e le sostanze benefiche penetrano più profondamente sulle ciepulite umide tosto che asciutto, prima di applicare Una maschera Fatevi lo shampoo e risciuate bene i capelli senza usare i balsami, il cacao è molto salutare per il cuoio capelluto. Quindi prima massaggiate il prodotto delicatamente nelle radici, dopodiché stendetelo su dalla lunghezza tenete sempre la testa con la maschera applicata al caldo, opto per aumentare l'effetto penetrante dei componenti Utalazione del cacao può durare fino a 48 ore, quindi non fatevi lo shampoo l'indomani dopo la maschera, gli agenti per lo style e deteriorano l'efficienza delle maschere Al cacao, perciò sono molto sconsigliati durante il corso del trattamento intensivo Non dimenticate neanche delle precauzioni Anche se l'olio di cacao rappresenta un filtro naturale UV, bisogna stare il meno possibile sotto al sole coccente e al vento con la testa scoperta Bisogna fare meno styling al caldo, in quanto esso sa la chioma e la rende di nuovo fragile Nutrite le radici non solo con le maschere, ma anche con la dieta equilibrata e salutare, fruit, verdura, cereali, pesce Grazie alla cura così delicata e correttamente strutturata i vostri capelli vi riempieranno ogni giorno di gioia per la loro bellezza Salute e brillantezza